allora eccoci qua iniziamo se volete potete venire anche di qua allora tanto non interrogo faccio qualche domandina benvenuti all'incontro è come chi l'ha visto online l'anno scorso cioè senza una traccia specifica però l'occasione è magari risolvere qualche dubbio chiarimenti e approfondimenti eccetera eccetera quindi chi parte chi ha qualche argomento anche titoloni ma questa proprio non l'ho capita come era spiegata sul libro vediamo vai contabilità la bestia nera ed è quella su cui si vince i concorsi i concorsi si vincono su tre materie contabilità appalti e pubblico a piedi perché sono le materie trasversali che molti sottovalutano e che cambiano continuamente mentre un errore nella preparazione prepararsi sulle materie specifiche se esce un concorso del profilo tecnico non studio la parte di me o meglio la studio come gli altri ma non ci sarà molta differenza fra i partecipanti perché concorso comunque è una competizione una gara con gli altri dove la differenza la fanno le cose che si studiano quindi contabilità cosa intanto intanto ricordarsi sempre sia allo scritto che all'orale partire a un livello superiore rispetto alla domanda cioè se la domanda è bilancio non inizio a dire il bilancio perché tre minuti e ho finito mentre nei concorsi l'ideale è arrivare a 7-8 minuti quando la commissione dice basta e allora cosa c'è sopra il bilancio qual è la materia immediatamente sopra non posso andare troppo lontano perché sennò vado fuori tempo qual è di cosa fa parte di che categoria fa parte sì è un documento contabile quindi potrei partire da quello cioè elencare i documenti contabili oppure il bilancio è uno dei principali strumenti di cosa ma di che cosa si chiama programmazione quindi la materia fondamentale è la programmazione allora io posso fare un'introduzione dicendo gli enti locali operano secondo un principio di programmazione ciclo di deming plan do check act eccetera eccetera la programmazione finanziaria è una delle tante programmazioni e qui mi gioco subito un jolly da un lato la programmazione finanziaria e dall'altro che cosa ho abbastanza banale ricorda sempre nel diritto se c'è un aggettivo vuol dire che c'è anche la cosa con l'aggettivo opposto programmazione finanziaria e programmazione non finanziaria il piau quindi oggi la logica fondamentale della programmazione è quella finanziaria cioè dei soldi va negli strumenti di programmazione finanziaria tutto il resto dovrebbe andare nel piau anche se in realtà non ha questa funzione ancora la programmazione finanziaria da cosa parte qual è il primo atto della programmazione finanziaria negli enti locali e poi magari guardiamo anche lo stato qual è il mandato del sindaco riguarda tutte e due perché riguarda la programmazione finanziaria e non finanziaria ora il sindaco di numeri ci capisce un po' il DUP documento unico di programmazione il documento unico di programmazione è il principale strumento di programmazione finanziaria e anche strumento di programmazione non finanziaria infatti non si chiama DUP documento unico di programmazione finanziaria ma è il documento unico di programmazione perché contiene le risorse nella sezione operativa e contiene anche gli obiettivi nella sezione strategica quindi dal DUP nascono il bilancio e nasce il piau questa è un po' la logica ehi ciao questa è la logica fondamentale quindi il bilancio è documento contabile che è lo sviluppo di questa programmazione che però a monte ha una programmazione che non è comunale perché il DUP si basa fondamentalmente sulle risorse che arrivano ai comuni da chi? dallo Stato e dalle regioni perché la programmazione degli enti locali è ancora fortemente legata allo Stato e alla regione il sistema degli enti locali è un sistema che prevede l'autonomia finanziaria sulla carta ma il federalismo fiscale non è mai stato fatto per cui io avrò il DEF il documento di finanzia statale e il DEF regionale che stabiliscono le risorse che daranno agli enti locali che poi ci fanno il DUP quindi la sequenza è questa quindi prima dell'estate si approva il DUP per poi andare nella sezione di bilancio la sezione di bilancio è quel periodo dell'anno fra il 15 novembre e il 31 dicembre in cui teoricamente si approva il bilancio degli enti locali teoricamente perché per gli enti locali a differenza dello Stato e delle regioni non esiste il vincolo del 31 dicembre quindi si può andare e si va normalmente in esercizio provvisore comunque il bilancio è il principale documento contabile di programmazione finanziaria cioè programmazione vuol dire che io stabilisco oggi quello che farò domani a differenza della contabilità economico patrimoniale dove il bilancio è retrattivo il bilancio delle aziende, il bilancio degli enti pubblici economici è un bilancio di esercizio cioè un bilancio che guarda al passato negli enti locali questo bilancio si chiama rendiconto o bilancio consultivo quindi bilancio, se intendiamo il bilancio di previsione finanziaria è il principale documento contabile di programmazione dopo il DUP che è il principale strumento non contabile di programmazione finanziaria e non finanziaria poi nel diritto due cose anzi tre cose quando viene fatta una domanda si deve dire cosa è, descrivere il bilancio chi lo approva e come lo si approva chi, cosa e come sono le tre componenti fondamentali come sarebbero le procedure chi ha competenza quindi chi è competente in materia di bilancio voglio la risposta da 8 e la risposta da 10 consiglio comunale è la risposta da 8 quindi il consiglio comunale è competente in via principale in materia di bilancio articolo? gli articoli ogni tanto bisogna sapere la memoria 42 poi? poi c'è anche la giunta poi c'è anche la giunta e cosa fa la giunta? la giunta presenta la giunta presenta ha la competenza esclusiva nelle proposte di tutti gli strumenti finanziari quindi non possono essere presentati da un consigliere un consigliere non può presentare la bozza di bilancio o lo schema di altri provvedimenti in materia finanziaria e questo è importante ma fa solo la proposta? no ma anche se non erro e del tipo mai dire se non erro un'altra cosa importante all'orale mai se non erro tanto se erro erro se dico se non erro ricordatevi i membri della commissione funzionano così generalmente non stanno a sentire cioè i membri della commissione quando parte l'orale 20, 30, 50 persone all'orale gli suonano sottofondo poi pensano ti mangerò oggi a pranzo se io mi interrompo dico se non erro si svegliano quindi voi dovete con un tono di voce anche se addormenti quindi la giunta che cosa fa? in materia di bilancio una è famosa via d'urgenza intanto è l'unico provvedimento di competenza del consiglio che può essere adottato dalla giunta in via d'urgenza perché tutte le altre competenze del consiglio sono inderogabili non possono essere adottate da altri organi e questo è una prima novità però cosa può fare anche la giunta? ora si è preintero che solo lei allora io lo chiedi in realtà lei ha fatto la domanda dice cavolo di orvi le variazioni di bilancio non d'urgenza il testo dei clienti locali prevede una serie di variazioni di competenza della giunta quando non modificano i capitoli eccetera eccetera non modificano le missioni i programmi e poi chi altri fa variazioni di bilancio? i dirigenti quindi il tuo è stato modificato prevedendo una serie di variazioni in analogia a quella che è la riforma della contabilità di stato anche questo è un altro concetto importante perché anche in materia di contabilità di stato lì non c'è la giunta ovviamente lì ci sono i ministeri che possono adottare alcune variazioni di bilancio direttamente senza ripassare dal Parlamento che approva la legge di bilancio parlando di questo aspetto ecco un'altra cosa che subito va detta per giocarsi i giolli allora l'orale dovrebbe essere fatto così io do la definizione intanto la premessa poi do la definizione di bilancio poi cerco tutti i dettagli articolo 42 inderogabili giunta dirigenti poi mi devo giocare i giolli i giolli sono le cose che la commissione non si aspetta che uno dica tanto più basso è la categoria per cui concorro B3 C1 D1 tanto più il giolli mi dà punti a volte io prendo tre punti semplicemente per aver detto questa parola vediamo un po' che gli viene in mente sulla contabilità e sul bilancio corte dei conti come? corte dei conti corte dei conti ci sta sempre bene quella che fa paura quella che mette ansia armonizzazione contabile e coordinamento coordinamento ma l'armonizzazione contabile è il concetto per il quale da 12 anni a questa parte le norme in materia di contabilità stanno assumendo un meccanismo di uniformità ed è un modo è stata la morte del federalismo fiscale perché il federalismo fiscale significa che ogni umore fa quello che può l'armonizzazione contabile significa che non puoi nemmeno stabilire dove mettere le cifre nel bilancio perché gli schemi di bilancio gli schemi di PEC sono tutti uguali a livello nazionale quindi è la scusa con cui diciamo l'Europa ci ha introdotto questi meccanismi quindi bilancio poi altre cose da dire quindi chi fa che cosa il consiglio ma abbiamo detto anche la giunta in via d'urgenza e giunta in via ordinaria e dirigente in via ordinaria poi cosa il bilancio è un documento contabile che contiene come te lo immagini il bilancio come? entrate e scine diciamo le due componenti fondamentali del bilancio degli enti locali che è un bilancio a contabilità qual è l'aggettivo? finanziaria finanziaria quindi non economico patrimoniale finanziaria quindi non ci sono costi e ricavi ma ci sono entrate e spese e si basa sul principio autorizzatorio quindi le entrate e le spese costituiscono le autorizzazioni che il consiglio dà a chi? ai dirigenti mediate da chi? dal PEG quindi il bilancio è attuato nei comuni che hanno l'obbligo di approvare il PEG dal PEG ehi là ciao affisionados ho detto se non vengono mi vendico venite anche più qua io sto qua perché ho la videocamera si mettiamo sugli scopi quindi mediato dal PEG con il quale vengono date le autorizzazioni ai dirigenti a spendere quindi il bilancio è un documento contabile con quale caratteristica? la caratteristica di essere atto politico quindi è l'atto con il quale la politica dà ai dirigenti mediato dal PEG le risorse per realizzare gli obiettivi il bilancio dalle risorse il PEG dalle risorse e gli obiettivi insieme al PTO è il piano della performance quindi questa è un'altra componente nell'ottica di armonizzazione contabile per cui le regole diciamo di redazione del bilancio ormai sono tutte definite nel decreto 118 questo da imparare ovviamente a memoria dopodiché abbiamo detto come si fa e quindi mentalmente io devo ricordarmi ok l'ho detto tutto ho detto chi sì sì l'ho detto ho detto sì adesso come si approva il bilancio quindi qual è la procedura abbiamo detto chi parte a fare la proposta giorno la giunta quando entro quando o da quando in realtà non c'è un entro quando ma c'è un da quando no luglio ancora sì lezione di diritto amministrativo sì si vede dalla faccia no no con il def eh il def col def inizia ma insomma è giunta in vacanze in questo periodo eh prima anche perché dopo il def che cosa c'è dopo il def e il dup il dup non è l'ultimo atto prima del bilancio aggiornamento la nota di aggiornamento al dup quindi la nota di aggiornamento al dup è il documento con il quale ok a luglio avevamo detto certe cose ma che ce ne fregava si stava già pensando all'ombrellone adesso invece andiamo sul serio quindi a novembre facciamo la nota di aggiornamento al dup perché a novembre cosa accade lo stato fa la nota di aggiornamento al def quindi lo stato sa quali sono le risorse che ha la regione sa quali sono le risorse che ha fa la nota di aggiornamento al def quindi l'ente locale è sufficientemente certo ancora non certissimo sufficientemente certo delle risorse allora fa la nota di aggiornamento al dup che è anche l'atto che lo stesso giorno costituisce la proposta di giunta perché la nota di aggiornamento al dup la prepara la giunta per la proposta di bilancio 15 novembre inizia gli enti che ce la fanno in realtà sono pochissimi diciamo comunque dal 15 novembre al 31 dicembre e entro il 31 dicembre si dovrebbe approvare il bilancio si dovrebbe perché? perché ci sono tre momenti quello fisiologico si approva il bilancio ed è tutto fatto poi c'è il momento fisiologico bis cioè non approvo il bilancio entro il 31 dicembre perché posso non approvarlo quando succede che posso non approvare il bilancio il 31 dicembre fisiologicamente quando il ministero oppure non è detto che sia la finanziaria spesso la legge finanziaria è una legge dello Stato quindi una legge dello Stato stabilisce un termine diverso quindi deroga temporaneamente alla normativa sul bilancio oppure più spesso il ministero dell'interno stabilisce con decreto la spostamento del termine dell'operazione del bilancio che quest'anno è il luglio 31 luglio per cui siccome il Piau va approvato entro 30 giorni il Piau si approverà entro il 30 di agosto quest'anno siamo arrivati quasi salvaguardia rimane sempre però cos'è la salvaguardia o meglio l'assestamento la verifica del bilancio quale bilancio il bilancio in corso quindi la salvaguardia rimane sempre la farai sull'esercizio provvisorio quindi tu se non hai approvato il bilancio è perché non è che se non hai approvato il bilancio si fa solo l'esercizio certo te comunque fai la verifica della salvaguardia degli equilibri anche se non hai approvato il bilancio ora nella maggior parte dei casi sono pochi gli enti che non approvano il bilancio perché il sistema della proroga non viene data mai una sola proroga anche se si sa che si arriverà quasi sempre a luglio cosa succede? tirando il 31 agosto il 31 dicembre dopodiché il 50% degli enti approva il bilancio il 31 dicembre dopodiché gli enti che non ce l'hanno fatta alcuni lo sanno che è un bluff non sarà mai aspettano febbraio marzo al 31 marzo c'è sempre il dubbio per cui molti corrono e rimangono un 10% poi un 8 poi un 5 e poi vaffan se non approvo il bilancio il 31 luglio cosa succede? gestione provvisoria gestione provvisoria diversa dall'esercizio provvisoria perché l'esercizio provvisoria è fisiologico l'unica differenza è che si impegna in dodicesimi tranne le spese inderogabili o non parcellizzabili mentre per quanto riguarda la gestione provvisoria siamo quasi in predissesto cioè io posso spendere solo le spese indispensabili obbligatorie per legge tutto il resto lo devo rimandare finché non approvo il bilancio e contemporaneamente cosa succede? perché la gestione provvisoria è diciamo rischiosa? cosa potrebbe accadere? interviene il ministero dell'interno il ministero dell'interno se se lo ricorda o se c'ha voglia se sei di un colore politico diverso dipende da vari fattori perché in realtà il testo unico dice se non approvi il bilancio nei termini è causa di scioglimento del consiglio ma non è automatico il scioglimento del consiglio per mancata approvazione del bilancio non è automatico per cui il ministero telefona scrive ma con chi ti canti della prossima volta ma insomma inizia tutta una logica che non è soltanto gestionale e poi potrebbe anche sciogliere il consiglio per mancata approvazione del bilancio magari se è il terzo anno di fila che non lo approvi o se insomma i conti sono veramente messi male quindi la domanda era il bilancio insomma abbiamo detto quasi tutto e durante l'anno cosa può accadere a questo bilancio famoso poi l'abbiamo detto le variazioni di bilancio sono poche e tante nella prassi perché anche questa è una cosa importante allora spesso i punti nei concorsi si prendono dicendo le cose che non si leggono sui libri perché la maggior parte degli studenti giustamente Maggioli, Simone, NLD insomma i vari manuali trovano scritte alcune cose ma un 30% delle cose non ci sono sui libri perché derivano dalla conoscenza della prassi amministrativa spesso chi scrive libri sono avvocati rispettabilissimi saluto gli avvocati ma che non hanno mai visto ma hanno fatto un atto amministrativo ma hanno fatto un bilancio quindi un comune il comune di San Benedetto in fondo all'anno quante volte fa una variazione di bilancio? una massimo 5 o più di 5? normalmente mediamente un comune italiano più di 5 una massimo 5 o più di 5? più di 5 chi vota più di 5 alzi la mano facciamo un po' di statistiche alzi la mano forse tutte le variazioni variazioni di bilancio di consiglio diciamo o di giunta d'urgenza e poi ratificata dal consiglio fino a 5? chi vota fino a 5? maggior parte chi vota una sola? ok questo è tipico e attenzione perché nei quiz si tende a dare la risposta mediana perché ci sembrano estreme le due noi siamo conservatori non sempre sono le risposte giuste spesso lo sono ma non sempre molto più di 5 la maggior parte degli enti ormai va sulle 15 20 variazioni di bilancio ormai perché? perché ormai la programmazione è saltata cioè la programmazione funziona se tu approvi il bilancio entro il 31 dicembre programmi per 12 mesi dopodiché eccezionalmente perché ti arriva il ministero che ti dà il finanziamento PNRR un altro finanziamento tu fai una variazione di bilancio ma ormai è talmente saltato tutto per cui se il bilancio lo approvi a luglio cioè quando hai già impegnato il 70% delle somme perché la maggior parte delle somme tu le impegni prima delle staglie quindi ci hai già impegnato tutto dopodiché ogni volta qual è il trucco che gli amministratori hanno scoperto? se io programmo bene poi non posso più prendere decisioni in base all'elettorato cioè se mi arriva il cittadino che vuole fare una cosa eh no guarda ho programmato bene voi ce lo vedete un politico che dice no guarda non lo faccio ho programmato bene soprattutto a fine mandato no si fa la variazione di bilancio per mettere due lire da una parte perché si possa fare la manifestazione l'evento l'iniziativa quindi alcune volte diciamo viene fatta apposta nel senso dico che la variazione di bilancio è il prezzo che devi pagare per favorire questo in termini politici e non in termini diciamo di corruttivi anche perché poi non ti costa nulla la variazione di bilancio non è che è soggetta a obblivi particolari una volta che te hai verificato che c'è l'equilibrio è indifferente a differenza di un'altra cosa che invece cos'è quella cosa che insomma non è una delibera di consiglio come le altre quella gira un po' più le scatole se la provo la variazione di bilancio non la devo comunicare a nessuno la pubblico come tutti gli altri come il bilancio il debito fuori bilancio il debito fuori bilancio a chi lo devo segnalare alla Corte dei Conti che si incazza Corte dei Conti tendenzialmente quando vedi debiti fuori bilancio a meno che non sia una sentenza esecutiva per la quale il cittadino è caduto dagli scogli e si è fatto male e non ci può stare veramente si arrabbia quindi variazioni di bilancio in corso di esercizio e quindi la programmazione come si conclude diciamo lo strumento di programmazione finanziaria il bilancio come si conclude perché il bilancio è il primo documento contabile di un sistema di programmazione abbiamo detto meglio il 31 dicembre raramente il 31 dicembre arriva durante l'anno e poi quando finisco di parlare del bilancio 2022 rendi conto ma quando finisco di parlare del bilancio 2022 c'è un termine che è per forza quello è uno dei principi contabili quanti sono i principi contabili? 18 ok? i postulati sono 18 uno di questi principi mi dice non è che è un genio l'annualità da Gregorio Magno no Gregorio sì da Gregorio in poi annualità il bilancio parte il primo gennaio e finisce il 31 dicembre anche se la approva a maggio o a luglio l'esercizio finanziario è il primo gennaio 31 dicembre quindi io non posso più lavorare sul bilancio al 31 dicembre qualunque cosa accada quindi io non posso fare la variazione di bilancio a gennaio del bilancio passato quindi le farò in corso di esercizio alcune variazioni addirittura non le posso fare dopo il 15 dicembre dopo il 31 di novembre il 30 di novembre eccetera eccetera quindi comunque l'esercizio finanziario si chiude il 31 e poi c'è il rendiconto quindi il rendiconto non è altro che la fotografia di quello che ho fatto nell'esercizio precedente qual è la differenza fondamentale fra bilancio e il rendiconto dovessimo riassumerla in pochi concetti poi chiudiamo a me però a noi il rendiconto dice la verità è comandato veramente vogliamo riprendere dove lavori così per la telecamere eh no ha cambiato il rendiconto è la fotografia ma in che modalità è scritto andiamo un po' a sé questo lo sai tu a differenza del bilancio bilancio esercizio abbiamo detto in che tipo di contabilità è scritto mentre il rendiconto economico patrimoniale il rendiconto è redatto secondo il principio di contabilità economico patrimoniale allora bellina questa domanda vai dovete alzare la mano via via che leggo le opzioni non potete sentirle tutte facciamo una variazione sul tema quale tra i seguenti non rientra tra le parti in cui è formalmente strutturato un atto dell'ente locale ripeto la domanda quale fra i seguenti non rientra fra le parti in cui è formalmente strutturato un atto dell'ente locale a il numero di protocollo nessuno lo vota b la proposta di deliberazione c il preambolo tutti di la motivazione alzare la mano bisogna alzare la mano che non lei diceva il protocollo no però diceva che non quale fra i seguenti non rientra tra le parti in cui è formalmente strutturato un atto dell'ente locale la proposta c'è dibattito c'è discussione lei dice la proposta il numero di protocollo c'è sempre il preambolo c'è iniziamo a togliere la motivazione c'è la motivazione non può essere il preambolo c'è sempre in un atto dell'ente locale la motivazione non è un elemento essenziale dell'atto il preambolo è un elemento formale dell'atto come è fatto un atto amministrativo lo immaginate voi chiudete gli occhi sempre ricordatevi sempre tecniche di memorizzazione bisogna visualizzare un oggetto più riuscite a visualizzare un oggetto più facile studiare il diritto amministrativo quindi immagino un atto amministrativo qual è la prima parte dell'atto amministrativo intestazione quindi la carta intestata con il logo tutto colorato bellino ufficio di poi cosa abbiamo a volte abbiamo degli elementi formali che possono essere dati dalla data e dal numero e l'oggetto cioè l'oggetto che rappresenta l'ufficio fa parte dell'intestazione l'intestazione intendiamo l'ente e l'ufficio competente però il protocollo sta prima addirittura dell'oggetto risolto come? il protocollo c'è sempre anche prima dell'oggetto si allora però vediamo intestazione poi abbiamo detto la prima parte del provvedimento amministrativo normalmente è il preambolo il preambolo che cosa rappresenta? cos'è? se lo dovessimo descrivere mi descriva il preambolo cosa ci scriverebbe? considerazione presupposto però potrebbe essere anche la motivazione la motivazione per definizione sono gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali si è dato un provvedimento quindi è un presupposto è la narrativa di quello che ha portato le considerazioni no no sono diciamo che sono gli elementi essenziali di un atto qualunque sia il contenuto dell'atto il preambolo è visto il decreto 267 del 2000 visto lo statuto dell'ente visto quindi tutti gli elementi che qualunque sia l'atto di competenza di quel dirigente lui inserisce perché giustifica o la norma di riferimento principale o la norma che gli attribuisce il potere per esempio la nomina del sindaco al responsabile del servizio o il testo unico degli enti locali sulle competenze del consiglio quindi normalmente intendiamo per preambolo questa parte di premessa che a volte si confonde con la motivazione a volte non è facile a volte viene omessa ma che si ritiene sia un elemento formale dell'atto è il copia e incolla quando si fa un atto si prende quello precedente le parti che non si tolgono sono il preambolo poi dopo il preambolo abbiamo detto numero di protocollo c'è o non c'è allora qui parla di un atto dell'ente locale probabilmente allude a un provvedimento dirigenziale a un provvedimento amministrativo non è proprio corretto perché il numero di protocollo non è detto che ci sia sempre inteso come protocollo generale mentre inteso come protocollo particolare c'è sempre cioè gli atti amministrativi vengono sempre numerati perché sono invocibili la delibera numero 27 è un protocollo è un protocollo particolare cioè non ho bisogno di riprotocollare con il protocollo esterno quindi attenzione quando si parla di protocollo lo intendiamo il PG protocollo generale basta che sia un numero identificativo che identifica quell'atto rispetto a un altro questo c'è sempre effettivamente anche le circolari sono numerate però sono interni possono essere numerate o gli può essere attribuito un protocollo esterno l'importante è che ci sia univocità cioè io so sempre che tipo di atto di cui sto parlando e poi abbiamo la proposta di deliberazione che non è elemento dell'attore di un'attore è un presupposto può non esserci ok può non esserci formalizzato quando parliamo della proposta di deliberazione che iterà la proposta di deliberazione dato chi la può fare chi è titolare del potere di proposta di deliberazione dirigente responsabile di servizio poi anche se nella frassi non succede mai però teoricamente sono pagati per quello la giunta abbiamo detto la deliberazione di bilancio la presenta la giunta quindi la proposta deve venire dalla giunta poi chi è? sono pagati per quello pigliano anche un bel gettone consiglio chi è il consiglio? consigliere i consiglieri i singoli consiglieri quindi ciascun consigliere può proporre le delibere da sottoporre al consiglio o i singoli membri della giunta da proporre alla giunta quindi teoricamente il principale soggetto che può proporre delibere è il singolo consigliere poi di fatto non lo è perché non conosce la materia non saprebbe come scrive lo chiede agli uffici sono gli uffici che preparano la proposta di deliberazione una volta presentata la proposta cosa accade a questa proposta? Qual è il passaggio successivo? all'ordine del giorno alla commissione allora essere messa all'ordine del giorno commissione ok parliamo della deliberazione di consiglio quindi la proposta di deliberazione normalmente nei comuni in cui sono previste le commissioni non tutti i comuni sono previste o per le materie per le quali ciao ciao no più giù vai pensavamo un tratto questo è selezione noi dobbiamo fare selezione mettetevi pure dove volete non davanti alla videocamera ma dai vieni vieni quindi proposta di deliberazione che va a essere presentata eventualmente in commissione e poi in consiglio ma prima c'è uno step non sempre però nella maggior parte dei casi c'è la parola istruttorio è fondamentale come si chiama l'esito di questi istruttori i pareri di riguarda tecnica e contabile le proposte di deliberazione sono soggette ai pareri obbligatori non vincolanti dei responsabili del servizio cioè quello che è competente su quella materia ed è responsabile del servizio finanziario se ha effetti diretti o indiretti dal punto di vista finanziario non tutte le delibere tranne qual è quella che non è soggetta a parere per cui non c'è bisogno di chiedere quelle di indirizzo quelle che sono mero atto di indirizzo per cui non sono soggette a parere possono andare direttamente in consiglio possono nascere direttamente dal consiglio la mozione oggi di San Benedetto per non far fare più i miei incontri qui al Mono sarà un atto di indirizzo di cui noi ce ne freghiamo perché tanto non ci possono sanzionare non stiamo occupando solo pubblico è l'area demaniale solo la marina militare potrebbe farci sgomberare vai altri argomenti io intanto cerco altri questi chi vuole lanciare dei termini anche fuori dagli enti locali diritto amministrativo cose che non vi sono andate giù il principio di rotazione dell'articolo 49 il principio di rotazione allora parliamo in generale del principio di rotazione perché la pubblica amministrazione ha questo elemento fondamentale in generale noi esseri umani tendenzialmente siamo statici cioè non ci piacciono le novità io stesso sono tornato qui dopo un anno nello stesso posto mezz'ora prima perché ora vi porterò le quattro vedrete datemi due o tre anni e vi porto alle quattro non ce la farai per cui principio diciamo uno dei principi delle organizzazioni pubbliche è la stabilità questo in generale è una finalità di ogni organizzazione quella di reggere nel tempo e di consolidare delle procedure delle prassi tant'è che abbiamo una legge sul procedimento amministrativo che per definizione è statica la legge 241 mi dice cosa devo fare non è che me la posso inventare volta per volta che cosa devo fare proprio perché la continuità i processi le procedure sono un elemento che caratterizza l'organizzazione e tant'è che esistono anche dei modelli organizzativi internazionali per consolidare queste procedure come si chiamano quando un'organizzazione è seriamente organizzata cosa fa? fa un passaggio non pensate agli enti locali questo è un collegamento diciamo logico voi vedete un'azienda ci vedete un marchio si chiama un bollino certificata ISO 9000 ISO 9001 ISO 9001 2015 è una certificazione internazionale che mi attesta che quell'azienda io non so se fa bene i tortellini non so se cucina bene il pesce non lo so ma so che ha dei processi standardizzati ogni volta che va a preparare la zuppa di pesce la fa in quel modo e al negozio e al supermercato so che l'ha fatta secondo un processo standardizzato se fa questo è improbabile che escano difetti nella produzione è il sistema moderno perché tutte le macchine sono allo stesso tipo hanno le stesse caratteristiche nel 900 ogni macchina è diversa dall'altra ogni prodotto se vai in un ristorante tipico non troverai mai il tortellino prodotto come è stato cucinato la volta precedente vai da McDonald's e ti trovi gli hamburger tanti allo stesso modo con tutte le caratteristiche devo suggerire un brand quindi questo è un elemento importante cioè la standardizzazione non è comunque un elemento contrario a logica della pubblicazione qual è però il problema è che la standardizzazione genera nelle pubbliche amministrazioni momenti di potere cioè mettere i soggetti nella possibilità di esercitare il potere non necessariamente per una finalità di pubblico interesse allora il legislatore è intervenuto prevedendo alcuni principi uno di questi principi è il principio di rotazione rotazione che vale nell'organizzazione la rotazione del personale non solo dirigenziale quindi chi è al vertice in primo luogo ma anche chi non è al vertice dovrebbe periodicamente cambiare e su questo la maggior parte dell'amministrazione non riesce soprattutto gli enti locali perché se sei in 15 in un comune cosa ruoti se sei in 50 un pochino meglio se sei in 200 dovresti riuscire a farlo quindi la rotazione è anche funzionale all'organizzazione piano nazionale anticorruzione PIAO devono stabilire i criteri in base ai quali si fa la rotazione del personale nella pubblica amministrazione pena la violazione delle norme in materia di anticorruzione ma ce l'abbiamo anche in materia di appalti in materia di appalti il principio di attenzione ha un altro scopo diciamo simile dal certo punto di vista perché? perché come il dirigente che da 20 anni che lavora all'ufficio appalti può farsi influenzare può diciamo maturare un potere perché stando lì da tanto tempo io potrei diciamo essere interessato a contattarlo da un altro punto di vista l'impresa che si trova già ad essere fornitore dell'amministrazione può maturare lo stesso rapporto di potere perché? perché io ti faccio il servizio di pulizia delle strade di pulizia delle scuole conosco l'ambiente so che esercito bene qual è il rischio per un'impresa che non ruoti cioè non venga sostituita da un'altra impresa cosa potrebbe scegliere di farlo? altera la concorrenza in che modo in che modo altera la concorrenza? se si lo stavi dicendo eh sanno che tanto sono loro gli appaltatori quindi magari ti alzano i prezzi è una legge di mercato inevitabile se voi qui avete un chiosco che vende pesce il primo anno lo venderà a 90 centesimi al chilo adesso che il secondo anno sapendo che rimarrà qui e non ci sono altri chioschi in giro lo farà un'ora e venti perché utilizza la posizione che ha di mercato per aumentare i prezzi è fisiologico è naturale è una legge di mercato inevitabile se io invece so che una volta che mi sono aggiudicato l'appalto l'appalto successivo potrei non averlo aggiudicato se non faccio un'offerta congrua per cui se chi ha il chiosco qui l'anno dopo deve andare a gara non potrà scegliere di fare un euro e venti che potrebbe non aggiudicarsi allora farà un'offerta da un euro magari da 95 centesimi perché sa che deve vincersi il posteggio è sempre avvantaggiato perché perché già lavora qui non ha costi di installazione quindi deve soltanto lavorare sul prezzo mentre un nuovo che arriva deve fare un prezzo che gli ripaghi l'investimento quindi ha già un vantaggio concorrenziale ma non lo può sfruttare appieno quindi principio di rotazione degli affidamenti che è l'unico che è rimasto nel codice dei contratti ricordatevi la novità fondamentale è questa il vecchio codice prevedeva la rotazione degli inviti e degli affidamenti perché anche gli invitati diciamo hanno un vantaggio competitivo mentre il nuovo codice lo prevede solo per gli aggiudicatari significa metterlo nella condizione nell'ansia di sapere che due o tre anni ma poi dopo quel prezzo me lo devi tenere più basso altrimenti sei fuori dal mercato questo è un concetto fondamentale che è molto simile vai prego aspetta però volevo questa scena guardatela questa è la scena del nostro futuro 80% donne e gli uomini che piano piano escono questo è i concorsi tutto la vita perché abbiamo una vita ancora non i dirigenti intanto fisicamente duriamo 4-5 anni in meno anche quella è una cosa che ce ne dobbiamo fare una ragione fra un po' perderemo anche queste le ultime prerogative che abbiamo alla nostra generazione che vedrà anche questo vai prego fondo pluriannale vincolato no non posso fare l'impegno? certo ma te lo conosci sì certo prima o poi mi fai l'esempio allora riepiloghiamo cos'è il fondo pluriannale vincolato allora dal punto di vista definitorio è un saldo contabile che si genera quando si realizza questo meccanismo intanto è l'alter ego dei residui attivi e passivi quindi normalmente quando io ho una somma accertata che alla fine dell'esercizio non ho riscosso si forma residuo attivo se ho una somma impegnata che non ho liquidato si forma residuo passivo questa è la regola in generale il legislatore dell'armonizzazione contabile si è inventato e alcuni l'hanno criticato nel senso che non era indispensabile non c'era nella legge delega e non c'è nei principi contabili generali cioè il fondo pluriannale vincolato è un'altra cosa i giolli da dire non esiste nella contabilità privata ok è un'invenzione della contabilità finanziaria pubblica generato fondamentalmente per questo siccome gli enti pubblici soprattutto gli enti locali ricevono numerosi finanziamenti il 70% della finanza degli enti locali è ancora derivata cioè cosa vuol dire che non è generata dalle proprie entrate è generata da quello che ti regala va abbossato mamma regione ok quindi non facciamo con i nostri soldi il federismo fiscale è fallito allora cosa succede io ho un trasferimento di una somma che quindi io accerto quindi il provvedimento con il quale accerto questa somma è il tipico atto di accertamento quali sono le fasi dell'entrata? accertamento l'acronimo dai non ci credo non vi ricordate ARV ARV accertamento riscossione versamento ricordatevi cercate di memorizzare quanto più possibile acronimi targhe numeri perché rimangono molto più impressi che non i concetti i concetti svaniscono mentre la visualizzazione cioè io mi vedo una bella insegna tipo un ristorante ARV oh guarda c'è un ristorante ARV accertamento riscossione versamento quindi fasi di gestione dell'entrata è la cosa più importante delle accertamenti ora cambio oggi è sempre per rimassare qual è il concetto fondamentale delle fasi di gestione dell'entrata? se dovessero chiedere ma qual è la cosa più importante quando io chiedo la gestione dell'entrata? sul bilancio l'abbiamo detto eh? l'abbiamo detto l'abbiamo detto l'abbiamo detto devo avere la previsione di quell'entrata anche se in realtà potrei accertare anche entrate non previste per l'entrata diciamo non è così vincolante per la spesa invece è rigoroso ma qual è la differenza fra il bilancio e l'accertamento? sono due documenti contabili se vogliamo che l'accertamento è certa l'obbligazione è perfezionata? ci siamo ma non è tanto quello anche il bilancio se lo faccio bene dovrebbe essere certo è previsionale ma se sono bravo mi ci avvicino la competenza dirigenti politiche certamente la prima fase di gestione dell'entrata è di competenza dirigenziale questo è il concetto fondamentale quindi l'accertamento è il primo atto di una sequenza che normalmente comprende tutte le tappe con il quale io a seguito di un'obbligazione di un'obbligazione perfezionata accerto le somme che devono entrare a favore dell'ente locale con il titolo la causale l'entità eccetera eccetera bene quando questo accertamento è collegato ad una spesa pluriennale ok a differenza dei residui i residui non hanno un collegamento ecco la prima differenza tra il fondo pluriennale vincolato e l'accertamento residuo l'accertamento residuo riguarda la singola annualità i residui si formano sulla singola annualità fra l'altro dell'esercizio in corso non si formano residui su accertamenti del 2024 quelli si formeranno l'anno prossimo non certo oggi perché non avrei potuto accertarli quindi prima differenza fondo pluriennale e pluriennale residui sono annuali seconda differenza il collegamento cioè io ho degli impegni delle somme che andranno ad essere impegnate relativamente a quelle somme accertate quindi c'è uno stretto collegamento quindi le somme impegnate non possono essere superiori alle somme accertate questo è un primo vincolo quindi avrò un'entrata che si spalma in due o più esercizi finanziari rispetto ai quali io farò i relativi impegni che possono non fare al primo anno io gli impegni li posso prendere anche negli anni successivi quindi il fondo pluriennale vincolato si fonda laddove io a seguito il mio classico esempio di 100 di entrate perché la regione mi ha dato 100 euro per rifare il faro benissimo ok io faccio un atto di accertamento di entrata di 100 euro fino a quel momento nessun problema dopo di che cosa faccio per il primo anno faccio un impegno di 10 perché il primo anno devo prendere l'architetto che mi deve fare il progetto mi costa 10 il primo anno ho impegnato solo 10 io non ho impegnato negli esercizi successivi ho impegnato solo questi 10 i 90 euro i 90 euro di differenza che in condizioni normali non avessi questo legame andrebbero a residui vanno in fondo pluriennale perché perché so già che li impegnerò non è detto che li impegni quest'anno l'anno prossimo ho 90 il fondo pluriennale vincolato è di due tipi fondo pluriennale vincolato in uscita fondo pluriennale vincolato in entrata quindi i 90 diventano fondo pluriennale vincolato in uscita dell'anno 2023 che si trasforma in 90 fondo pluriennale vincolato di entrata 2024 che va a finanziare il resto l'impegno lo faccio in quel 2024 quindi non ho l'impegno il primo impegno lo devo comunque avere se no non si fonda il fondo pluriennale quindi il primo impegno anche solo di 10 anche solo di 1 lo devo avere se no non si forma fondo pluriennale ma si formerà differimento dell'accertamento all'anno successivo cioè se i soldi li ho avuti avrò un fondo pluriennale vincolato pari a 100 non ho fatto nessun intorno non spendo niente 100 di fondo pluriennale vincolato in entrata dell'anno successivo perché c'è questo collegamento faccio l'impegno l'anno dopo uguale uguale certo 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 io posso posso impegnare anche tutto perché perché la gestione provvisoria l'esercizio provvisorio l'esercizio provvisorio che opera in dodicesimi non riguarda le spese non frazionali siccome quel contributo l'ho fatto per realizzare il faro io dovrò impegnare tutto quello che è nel cronoprogramma che ho detto alla regione e che prescinde dai dodicesimi quindi se io avessi previsto che non serve progettare serve ristrutturare il faro il 90% lo devo spendere il primo anno io spendo il 90% anche a gennaio del 2024 anche in deroga dodicesimi spiegherò che non si applica il vincolo dodicesimi anche perché non ho grandi problemi perché è tutto finanziato dall'entrata l'esercizio provvisorio vuole evitare che tu spenda risorse che poi non sono certe perché tu stai spendendo sulla base di previsioni d'entrata che potrebbero non realizzarsi perché sono riferite alla seconda annualità dell'ultimo bilancio approvato e te vai a sapere se ce l'avrai invece in questo caso non ci sono problemi va sempre in deroga diciamo secondo il cronoprogramma va sempre in deroga parla più forte dodicesimi se non attivo il fondo problemale vincolato ma io accerto l'entrata regionale non ho un cronoprogramma non ho un progetto di impegno semplice la regione non me lo impone io tranquillamente impegno in dodicesimi su quell'entrata no neanche su quell'entrata io impegno in dodicesimi sul capitolo di bilancio a disposizione cioè se io ho il capitolo progettazione di interventi sul territorio vari a 1200 io spendo 100 euro a prescindere da quanto mi è entrato dalla regione anche se mi fosse entrato meno di 100 euro perché non c'è collegamento cioè se la regione mi dà 50 euro per rifare il FAD e io non ho fatto fondo plurinale vincolato perché? perché mi servono a nulla e non mi bastano io non faccio fondo plurinale vincolato semplicemente l'anno dopo spendo 100 già al gennaio per ristrutturare il FAD io devo fare se sforza l'impegno in dodicesimi poi posso fare la procedura di affidamento anche più completa cioè io posso fare una gara per affidare 1200 euro dove nel contratto stabilisco che tu non potrai avere più di tot soldi a stato di avanzamento quindi ti dirò che io ti affido 1200 euro prenoto l'impegno non posso impegnare prenoto l'impegno su 1200 e impegno soltanto in dodicesimi a meno che non sia frazionabile a meno che non sia frazionabile a meno che non dica però non posso fare un impegno maggiore per renderlo non frazionabile cioè il trucco quale potrebbe essere beh io ho messo 1200 e non è frazionabile no se è frazionabile perché l'architetto può fare un lavoro ripartito poi consideriamo che devo fare l'impegno completo quindi sarà impossibile prima di aprile maggio giugno tendenzialmente no teoricamente sì allora usciamo dalla contabilità vediamo un po' se ci sono altre domande e poi volete tornare sempre lì ma è noiosa è come una ragnatela ma non ci se ne è oh ciao buon lavoro ciao e vai ciao la selezione naturale allora vediamo un po' sì principio di sì non è che il vecchio affidamento il principio di rotazione si applica ai nuovi affidamenti a prescindere dal fatto di qual è la norma che ha regolamentato il vecchio affidamento quindi oggi io devo domandare sto applicando il nuovo codice la gara è stata bandita dopo il primo di luglio bene quale norma si applica? principio di rotazione tizio era affidatario vecchio codice di un affidamento bene principio di rotazione che va in deroga per molte cose sotto i 5.000 euro se non c'è concorrenza quindi se il numero di operatori che operano è meno di 5 allora invito comunque l'operatore esistente se posso dimostrare che il settore merceologico è diverso insomma ci sono varie deroghe ma lo devo applicare a prescindere da quello che è accaduto prima il mondo del diritto è fatto di tanti allora normalmente chi dà parere di questo tipo è interessato ad affidare a qualcuno cioè non è la teoria generale è che c'è qualcuno a cui affidare a ti inventi che esiste la teoria generale per cui il vecchio codice non disciplinava gli appatti il vecchio codice disciplinava gli appatti fra l'altro per un principio che esisteva io posso sostenere per alcuni istituti giuridici del nuovo codice che non c'erano nel vecchio che ovviamente non trova un'applicazione rispetto al vecchio ma il principio di rotazione c'era già e fra l'altro è quasi identico a quello successivo per cui fra l'altro non c'è norma transitoria che stabilisce un'applicazione l'unica eccezione riguarda gli affidamenti nei settori sociali o meglio gli affidamenti a favore di enti del terzo settore perché nelle norme transitorie 225,8 qualcosa del genere devo ancora imparare in un'evec però nelle norme transitorie non è previsto l'articolo 49 relativamente agli affidamenti del settore sociale a favore degli enti del terzo settore questa è l'unica considerazione anche se taluno ritiene che si applichi anche a loro però non è espressamente richiamato quindi in questo caso se l'avevo applicato finora comunque nel nuovo posso non applicarlo io ho una domanda rispetto a un esempio pratico di questo problema io lavoro in un ente molto piccolo che ha una scuola di musica che ogni anno veniva affidata a un'associazione che era l'unica a partecipare alla manifestazione di interesse rispetto alla gestione annuale quindi per risolvere il problema dell'invito si applicava il piccolo avviso tutti quelli che presenteranno la manifestazione di interesse verranno invitati a presentare offerta solo loro si presentavano e solo loro venivano invitati a presentare offerta bene ora io con il nuovo codice cos'è? Una concessione? Non è una palla? quella sarà una concessione di un immobile per servizi di scuola, di musica? ma proprio diciamo un piccolo appalto dove l'appalto significa tu mi fai una prestazione di servizi e io pago cosa pagavamo? noi pagavamo un contributo per ogni persona iscritta ma non è un contributo, non è un appalto quella è una concessione con contributo tecnicamente è parteneriato pubblico privato nella forma della concessione con contributo siccome le spese sono maggiori dei ricavi i costi sono maggiori dei ricavi io dal piano economico finanziario che devo fare però io rispondevo anche la retta io riscuoto la retta di quelli che pagano ok loro mi gestiscono diciamo la scuola mi fanno il servizio e io pago un tot al ragazzo iscritto allora potrebbe essere configurato e l'offerta era il ribasso rispetto a una quota ok allora l'offerta annuale a 100 e mi veniva fatta l'offerta di ribasso sì un po' singolare ma potrebbe essere un appalto di servizi cambia, non cambia moltissimo però diciamo sì ok ho solo questo operatore che vuole farlo euri euri pochi 15 mila euro l'anno al marzo bene seconda cosa da quanti anni va avanti questa scuola? non due non tre perché fare l'affidamento annuale? è da domandarselo intanto gli affidamenti si fanno del periodo confacente al tipo di servizio no lo so lo so per rimanere sotto soglia ma si chiama frazionamento artificioso frazionamento artificioso può essere legato a una singola prestazione o legato a un arco temporale quindi in quel caso e fa troppe domande sa già le risposte non le faccio va fatto un affidamento decennale di sei anni di tre almeno di tre anni perché so che quella scuola non chiuderà perché rientra nel programma di mandato quindi figuriamoci se chiude fermo restando che al quarto affidamento anche se io lo faccio separato anno per anno io ho fatto frazionamento artificioso il quarto lo faccio con procedura non di affidamento diretto fra l'altro sto facendo una procedura abbastanza trasparente perché faccio un avviso chiunque può partecipare ma si può continuare ad utilizzare questa modalità della manifestazione? purché sia triennale, quadriennale, quinquennale perché ovviamente io posso non essere interessato qual è il trucco? cioè io non sono interessato ad un anno ma ad almeno 5 diciamo perché? perché per un anno nessuna scuola viene a comprare gli strumenti mettersi lì per cui faccio annuale perché tutti gli anni gli amministratori vogliono capire che se viene uno nuovo lo faccio cioè faccio in modo che diciamoci, tanto è inutile nascondersi però che quello che vogliono amministratori non ce ne può fregare di meno quindi io gli proporrò di fare quinquennale per cercare il principio di concorrenza articolo 3 del nuovo codice io devo cercare quanti più operatori possibili a me mi piacciono, spiegano bene suonano in piano fantasticamente però loro sono come tutti gli altri quindi io devo andare a cercare la soluzione migliore la soluzione migliore è andare sul mercato soprattutto quando c'è un solo operatore quando c'è un solo operatore è un'anomalia è un'anomalia del sistema soprattutto in un settore dove tanti possono esserci cioè non è che le scuole di musica ci siete solo voi vuol dire che è un problema o territoriale cioè i soggetti che vengono hanno difficoltà a venire nel mio territorio perché isolato, perché il numero di bambini è ridotto o perché appunto problema del tema non è accattivante la cifra e quindi devo lavorare sul tema questo è l'unico modo per applicare correttamente il principio di risultato perché? perché se non faccio così quella scuola ha un potere concorrenziale che domani gli consente di poter gestire cose extra che io non conosco per cui fanno le lezioni in pomeriggio e la retta non la pagano a noi ma la pagano direttamente sono fenomeni che poi nel tempo ovviamente si manifestano scusami vai 5.382.000 per 200.000 euro per cosa? che concessione? sì, per quanti anni? perché tre anni? prevedi una strage dei bambini cioè le concessioni infracquinquennali sono un'anomalia no, questa c'è la brava una questione per donna 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 ok per donna il finanziamento regionale il finanziamento regionale è legato con i finanziamenti ministeriali non dura a tutti gli anni l'amministrazione non vuole per 50 miliardi di anni non vuole quindi non vuole che c'è il suo miglioramento è di forza in base ok riepilogo quindi la regione mi dà i soldi per due anni al limite ce ne metto un anno più io ma più di un anno io non voglio spendere per realizzare questa cosa allora 50 e 50 perfetto intanto la prima cosa che mi devo domandare io come ente è al di là del finanziamento non è che se c'è un finanziamento io devo per forza fare una cosa tanto spendere la regione perché sono soldi pubblici cioè chiudere dopo tre anni una struttura significa aver buttato via dei soldi pubblici però questo ragionamento va fatto perché la corte dei conti non si domanda se ho fatto bene la procedura si domanda dove ho buttato quei soldi che siano miei o che siano delle regioni io non me la risolvo dicendo ma la regione mi ha dato due anni quindi io come ente non ammetto obiezioni io come ente mi devo domandare l'esigenza del recupero di una persona è legata al finanziamento o è legata al recupero di quella persona quella persona può aver bisogno di 5 10 15 anni io come amministrazione dire che finché mi paga la regione non lo faccio altrimenti sono cacchi delle donne che subiscono violenza direi non l'aprire perché dai un affidamento pensa a quella donna dopo 2 anni 3 anni si ritrova per strada senza più un supporto quindi prima mi devo andare rinuncio al finanziamento non è che ho bisogno di spendere soldi pensando che siano gratis sono soldi pubblici che la regione potrebbe destinare ad altri quindi secondo me lì non ha non ha senso i 3 anni è uguale è uguale è uguale quella è una scelta politica io sono tecnico a me politica non me ne frega niente io sono tecnico e dico dal punto di vista manageriale una struttura finalizzata al recupero di soggetti che siano immigrati che siano donne che siano uomini che siano persone con disagio non può avere un orizzonte temporale di due anni quindi non ti do il parere di realtà tecnica la vuoi approvare? non ti do il parere di realtà tecnica si fa quinquennale decennale di cui due anni finanziati dalla regione magari al terzo anno se funziona perché la regione cosa dice? io ti do due anni poi se funziona te ne do altri due ok? quindi da questo punto di vista secondo me il primo scoglio è quello se la faccio a dieci anni forse vado sopra la soglia a quel punto vado sui prei 5.382.000 se la faccio biennale sono sotto la soglia che non cambia molto perché sopra la soglia è procedura aperta sotto la soglia devo adottare io le procedure per l'affidamento della concessione e quindi farò un avviso di manifestazione di interesse farò è una cosa scegli te le procedure sì è una cosa tua scegli te le procedure 300.000 euro sì competitiva con negoziazione con allora faccio sempre con il mercato ma certo allora sotto i 5 milioni il principio fondamentale è sopra i 5 milioni 382 c'è un interesse trasfrontaliero certo cioè io devo fare una faccia aperta perché un operatore francese può venire a farlo può venire a farlo sotto poiché a meno che non ci sia un interesse trasfrontaliero certo perché se la faccio per i migrati è probabile che ci sia e quindi non posso non applicare procedure che prevedono anche la partecipazione di operatori stranieri in questo caso probabilmente è limitato probabilmente le esigenze sono settoriali ad esempio un intervento di ristrutturazione dopo un terremoto dopo un evento che riguarda il nostro territorio quello oggetto è uguale ma te lo devi fare se vuoi utilizzare quel contributo se non vuoi utilizzare quel contributo no quindi se vuoi utilizzare i contributi che lo Stato dà per quei centri devi mettere i requisiti soggettivi per quei centri quello è evidente te pensa alle iniziative per le vittime di mafia se tu le aprissi a tutti anche ad associazioni mafiose che fanno l'associazione per prendere i soldi per le vittime antimafia per cui prevedi che devono essere riconosciute che devono aver operato da cinque anni per evitare che chiunque si butti su un business che non deve essere un business quindi è ragionevole dire non voglio che magari sia l'associazione degli stupratori che va a aprire un centro perché non gli ha impedito quindi no però ora basta se no vai troppo nel dettaglio io devo andare al lavoro è stato un piacere ciao ciao alla prossima ciao alla prossima ciao allora vediamo 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 il verbale di una deliberazione può essere rettificata domanda molto particolare a no mai b sì in sede di lettura e approvazione c sì in sede di lettura e approvazione ma soltanto per correggere errori materiali sì ma soltanto mediante un'altra delibera allora rifaccio la domanda il verbale di una deliberazione può essere rettificato intanto che cos'è il verbale di una deliberazione domandiamoci sempre io vi consiglio molti cosa fanno ah ho trovato un sito concorsando mini interno poi con questo mito mini interno che sembra il sito ufficiale del ministro dell'interno che non è vero è un privato che ha avuto una genialata che si è dato quel nome è diventato famosissimo non sono ufficiali per cui ne faccio a centinaia oh 60% 70% poi succede questo se arriva all'80% poi sono tornato ai 60% mi prende il male fatene meno ma ragioniamoci anche sulle domande che cos'è un verbale di una deliberazione lo fa il segretario racconto di ciò che succede ok quindi è il riepilogo di ciò che è avvenuto di fatto e le dichiarazioni che sono avvenute in occasione di che cosa la delibera di consiglio cioè la seduta del consiglio della giunta questo di una deliberazione in generale il verbale che cos'è è la trascrizione scritta di ciò che è avvenuto di una riunione collegiale il verbale di una commissione di concorsa di una commissione giudicatrice del consiglio perché? perché gli organi collegiali non esistono mentre le persone fisiche diciamo parlano e quindi possono scriversi le cose i dirigenti possono scriversi le cose gli organi collegiali discutono narrano e quindi ci deve essere qualcuno che trascrive ciò che viene avvenuto quindi la trascrizione di una deliberazione dove io ho scritto che il consigliere ha dichiarato che il sindaco è scemo il consigliere può chiedere di correggerla perché non ha detto che è scemo è proprio imbecille cioè lui vuole che sia messo agli atti che è scemo io ho detto è proprio imbecille allora non mai secondo voi vi torna che non può essere verbale è ciò che il segretario comunale con atto facente fede trascrive intanto il verbale quando viene fatto il verbale è di una commissione contestualmente cioè in tempo reale prima o dopo concorsi dopo prima no prima è truccata la deliria oh c'è già il verbale pronto che vi venite a fare vai può succedere non ci nascondiamo niente in certi in certi momenti ma in concorsi dopo sapete che può accadere perché se io mi metto d'accordo con la commissione guarda allora esiste un principio un principio per il quale concorsi pubblici io devo correggere duemila temi non ho voglia di correggere facciamo così diamo tanto devono vincere i soliti diamo i voti a caso e facciamo vincere quelli per bene siccome la giurisprudenza ha introdotto un meccanismo per il quale si deve calcolare le ore che i commissari passano a correggere i temi cioè se risulta che sei stato 10 secondi su un tema ti viene annullata la procedura e allora si dice guarda fa una cosa noi si dà questi voti però te fai 10 verbali dove dici che nel tempo si è dato si è fatto queste cose sono cose sono emerse siamo in sede di controllo quindi potrebbero anche essere fatti prima ovviamente sono illegitti contestuale come si chiama il verbale contestuale un nome particolare nella prassi non lo trovate nel libro non è polpaccio il brogliaccio il brogliaccio è gli appunti che il segretario si affanna scrive e segna ovviamente poi sul brogliaccio nei giorni a seguire si farà il verbale perché si metterà pulito non è che si scrive proprio tutto quello che è accaduto il verbale deve essere sintetico quindi deve rappresentare gli elementi essenziali oggi come si fa il verbale di una seduta di consiglio questo era anni 90 oggi si registra è sufficiente la registrazione ahimè no ancora no perché c'è necessità di trasformarla per scritto quindi alcuni hanno dei programmi di identificazione vocale per cui trascrivono ciò che viene detto ormai sono diffusissime e ripercorrono abbastanza bene al netto del magari qualcuno parla in dialetto qualcuno è e diciamo non si riesce a identificare però vengono trascritte e poi vengono rimessi a posto dal punto di vista formale quindi vi faccio la domanda il verbale di una deliberazione può essere rettificato quindi sapendo come funziona sapendo che posso avere un programmino che mi trascrive ma non mi fa tutto bene le risposte sono ve le leggo solo le due su cui scegliere perché vi ricordate una regola del tecnicale anzi prima o poi porterò Alessandro forse la prossima volta viene anche Alessandro non si è svegliato in tempo no no non è qui non è qui ah ecco regola del tecnicale uno si fra due risposte simili qui abbiamo si in sede di lettura e approvazione la seconda è si in sede di lettura e approvazione virgola ma soltanto per correggere errori materiali la risposta giusta è sempre fra una di queste due ricordandovi questa regola che la la virgola può introdurre o un elemento di precisazione oppure un elemento di errore cioè io posso aver messo la virgola per precisare e quindi quella è la risposta corretta o per mettere una cosa sbagliata si chiama specchietto per la lodole cioè votami votami allora ripeto il verbale della deliberazione può essere rettificato A diciamo B si in sede di lettura e approvazione senza altre aggiunte C si in sede di lettura e approvazione ma soltanto per correggere errori materiali questo lei dice C chi dice C alzate la mano voglio vedervi in faccia non siate videoregistrate non li potete negare poi chi dice B invece Gli gnavi non voto allora pensiamo a cosa potrebbe essere intanto cosa sono gli errori materiali è ortografia e chi lo stabilisce cosa sono gli errori materiali se voto errori materiali che è uno specchietto per la lodole ok ci stava dici no cavolo mica puoi correggere tutto quanto però poi devo andare a stabilire che cos'è errore materiale e quindi rinasce il problema invece la risposta corretta è sì in sede di lettura e approvazione si può correggere anche quelli che non sono errori materiali errori di trascrizione ma io intendevo segnalare ma io non ho detto questo eccetera eccetera anche se non sono frutto di errori chi approva il verbale di una deliberazione? lo stesso organo che ha approvato l'atto generalmente nella prima seduta utile successiva non è sempre così non c'è un vincolo assoluto a volte si approvano anche tutti insieme una volta al mese una volta ogni due mesi ma devono essere comunque approvati se non sono approvati la delibera può essere mandata avanti è valida una delibera senza l'approvazione del verbale della delibera è questa è una domanda che dice cavolo tutte le certezze insomma no uah c'è un sacco di certezze poi ma vado a pigliare il sole ma vado a svegliare presto e mi stai demolendo tutto ragionando sì perché comunque magari il successivo ad esempio consiglio viene dopo due mesi eh cavolo e poi c'è la delibera di variazione di bilancio che devo aspettare fra due mesi cosa è che mi dimostra che è sicuramente sì non c'è dubbio che io posso mandare avanti una delibera anche se non ho approvato il verbale eh cavolo se addirittura io posso mandare avanti una delibera senza che sia pubblicata perché io ho dichiarato l'immediata eseguibilità dove sicuramente il verbale non l'ho approvato figuriamoci le delibera quindi normalmente l'approvazione del verbale ovviamente se poi quel verbale viene modificato sostanzialmente può creare problemi cioè se io la correzione è non volevo deliberare a ma volevo deliberare b è un problema di legittimità dell'altro normalmente sono piccole correzioni anzi normalmente il verbale non se lo fila nessuno allora oh bella domanda le ordinanze sindacali devono sempre avere forma scritta? pensate covid emergenze a no b sì c soltanto qualora siano contingibili ed urgenti d soltanto qualora si rivolgano alla generalità dei cittadini intanto i provvedimenti amministrativi devono avere sempre forma scritta non è detto perché se la risposta è sì non c'è dubbio là saranno anche le ordinanze se ho letto nel libro che tutti i provvedimenti devono avere forma scritta lo dovranno avere scritta o con idonea pubblicità non scritta quale potrebbe essere l'idonea pubblicità non scritta? provvedimento amministrativo cartellonistica la cartellonistica però è scritta disegnata scritta il messo che gira col pandino con il megafono sopra il messo che gira col pandino con il megafono sopra annuncia un qualcosa però magari annuncia un provvedimento adottato quindi dà pubblicità un provvedimento adottato ringrazio l'accesso buongiorno buongiorno facevo un esempio lei ha visto si è fermato? come mai si è fermato? non è perché faccio un attimo faccio un attimo complimenti faccio passare che ginnastica un po' d'aria buona che oggi è il più oddio oddio meglio così però aspetti se la puoi mettere un po' più avanti perché abbiamo la telecamera sennò finisce sul telegiornale ecco qua cosa ho fatto io? l'ho fermato e quello è un provvedimento amministrativo ok? ora non lo multa perché sono buono però incompetenza assoluta sì le ordinanze sindacali devono sempre avere forma scritta sì le ordinanze sindacali i provvedimenti amministrativi no ovviamente un'ordinanza che può essere contingibile ed urgente o ordinaria è prescritto allora ditemi voi se avete delle domande particolari complimenti vuole assistere con noi? vuole assistere con noi o fa ginnastica? faccio due e due noi continuiamo poi fate fate le ordinanze in giunzione A sono ordinanze che si rivolgono ad altre amministrazioni B sono espressione di un potere sanzionatorio C sono sempre di competenza sindacale D sono sempre ordinanze contingibili ed urgenti cos'è l'ordinanza in giunzione? ordinanza meno in giunzione questa è una parte che si studia meno e che invece può essere un bel giochi procedimento sanzionatorio pecuniario ok? l'attività amministrativa si divide in tre grandi branch amministrazione attiva io rilascio i certificati rilascio i provvedimenti ok? faccio un qualcosa di utile al cittadino diretto il cittadino mi chiede qualcosa io ti do il permesso di costruire ti do l'autorizzazione poi amministrazione consultiva io sono utile però rilascio il parere a qualcun altro ok? quindi non faccio un servizio diretto al cittadino ma l'ASDA che mi dà il parere per il permesso di costruire contribuisce al servizio ma indirettamente consultiva verso altri e poi amministrazione di controllo cioè sanzionatoria una delle forme dell'amministrazione di controllo è quella sanzionatoria cioè se tu violi la norma ci deve essere qualcuno che la fa rispettare e le sanzioni possono essere diciamo demolitorie quindi corrispondenti a un'attività dell'amministrazione volta al ripristino della legalità lo status quante come si suol dire oppure sanzionatori pecuniari per cui per equivalente poiché non si può ripristinare la legalità perché se te parcheggi indiviato di sosta ormai l'hai fatto se te parcheggi al posto di un disabile ormai hai tolto il posto anche se ti rimuovo la macchina però quella persona non ha potuto parcheggiare mi paghi mi paghi il danno che hai prodotto alla collettività attraverso la sanzionatoria questa materia è disciplinata da una normativa speciale anzi da due normative speciali il codice della strada per le violazioni al codice della strada quindi quella è una regolamentazione a parte per tutte le violazioni del codice della strada e invece una normativa generale per le violazioni diverse da quella del codice della strada che è la legge 689 del 1981 supergiore se riuscite a imparare questa non ci vuole tanto ma delle regole particolari queste due norme a questi due casi non si applica la legge 242 questo è un altro aspetto importante quindi non si applica l'avvio del procedimento risponsente del procedimento la conferenza di servizi eccetera eccetera ma funziona fondamentalmente così i signori hanno parcheggiato con la bicicletta non si può ora ne prenderemo atto anzi prendo il verbale vado la signora e cosa faccio? mica gli faccio l'avvio del procedimento cosa si fa alla signora? si fa il verbale cosa succede quando lei parcheggia in divieto di sosta con la macchina? cosa trova sul... signora non mi è mai successo cosa trova sul parabrezza? di che colore? di solito è colorato rosa, verde per renderlo evidente per evitare poi lei si lava il vetro eh, verde quello si chiama preavviso in realtà diciamo è il verbale di contestazione quindi non si parte con la comunicazione del via il nome del responsabile ma si fa un verbale di contestazione che consente alla signora di dire ma come io ho parcheggiato c'ho il bigliettino dei prezzi oppure ho parcheggiato qui mettiamo che gli si faccia il verbale perché ha parcheggiato qui ma qui non è di vieto di parcheggio capisci? ci possono stare cosa può fare la signora rispetto al verbale? fare ricorso amministrativo quindi chiedere all'autorità che ha emesso il verbale il comune o la capitaneria di Porto di anchiviare il verbale perché non c'erano i presupposti viceversa può pagare e ovviamente paga direttamente ma c'è una terza possibilità la signora non fa ricorso non paga piglia la visce e scappa ok? cosa succede dopo un po' di giorni da quando ha preso la visce il signore si scappa ha già capito il caso scappa ma qui il discorso si fa strano meglio arrivederci salve cosa succede dopo una sessantina di giorni da quando è stata qui? ti arriva il verbale vero e proprio perché quello è un preavviso di verbale il verbale con il quale ti viene comunicata l'ordinanza ingiunzione di pagamento che è il provvedimento finale con l'indicazione della cifra da pagare perché? perché nel verbale io posso pagare il doppio del minimo o il terzo del massimo insomma una cifra standard valida per tutti con la quale io evito ogni conseguenza non mi ha convinto vabbè dai però 20 euro li pago avevo messo il tagliandino però il tagliandino è finito per terra il vigile non l'ha visto in effetti ho sbagliato io pago oppure faccio il ricorso o se mi arriva l'ordinanza ingiunzione a quel punto devo per forza fare il ricorso giurisdizionale quindi l'ordinanza ingiunzione è il provvedimento finale di un procedimento sanzionatorio pecuniario ok? cioè al pagamento di una cifra non vi volevo insomma siete venuti qua e vi ho turbato ok l'avete studiata? no la 689 l'avete studiata fatelo ovviamente per i concorsi in polizia locale è fondamentale ma anche per i concorsi nel profilo amministrativo riuscire a portare il discorso ecco l'altro trucco che vi dicevo riuscire a portare il discorso laddove gli altri non vanno cioè se io ho scoperto che qui o dai video pochi la sanno mi ci butto a fare mi ci butto a preparare attualità le cose di attualità e le cose che gli altri non studiano sono quelle su cui si vincolano anche perché il 90-80% dei membri delle commissioni di concorso non la conosce per cui quando voi parlerete di quello le vedrete guardare così speriamo non mi chieda nulla perché io come collego l'ordinanza di ingiunzione alla 689? come? come collego l'ordinanza di ingiunzione è disciplinata la legge 689 la legge 689 prevede questo procedimento particolare che parte con l'accertamento il vigile accerta che c'è un'infrazione verbale di contestazione ti trasmette il verbale o direttamente sei lì te la notifica a mano te la lascia sul parabrezza o te la manda a casa e io posso scegliere di chiuderla lì con una sorta di patteggiamento cioè pago il doppio del minimo altrimenti se non pago o che faccia ricorso o che non faccia ricorso il vigile trasmette i documenti all'ufficio competente che mi manda l'ordinanza di ingiunzione cosa che sanno in pochi l'ordinanza di ingiunzione non è legata al doppio del minimo cioè è in un range fra il minimo e il massimo per questo le sanzioni amministrative non hanno mai una cifra fissa cioè quanta è la sanzione per la violazione del divieto di pesca sul molo non c'è una cifra fissa fra 1.000 e 5.000 chi lo stabilisce lo stabilisce l'autorità competente in sede di ordinanza di ingiunzione tenuto conto dell'interessato l'interessato è venuto qui e ci ha messo 10 canne da pesca beh allora è il massimo era una sola canne da pesca e lo fa a titolo diciamo non professionale allora non aveva mai commesso violazioni una volta che gli ho detto che stava sbagliando ha tolto la canna da pesca che è diverso da quello che continua a pescare nonostante gli faccia il verbale quindi tenuto conto di tutte queste circostanze si determina l'applicazione della sanzione Simone anch'io vado al lavoro questa mania ad andare a lavorare non ci sono più i dipendenti pubblici di lavoro grazie per la visita speriamo di vederci con più caldo e avere la vita al prossimo fammi sapere per quest'ultima cosa in particolare buona continuazione ciao grazie allora l'interesse legittimo oh queste sono domande un po' noiose ma che capitano tanto a che ore sono? 8 meno 10 grazie arrivederci buona giornata ah grandissima è stato di anche l'ora grazie grazie Simone Chiarelli mi trova su youtube e anche questa videoregistrazione no volevo sapere no ma volevo sapere preparazione ai concorsi lei era insegnante a scuola? anche lei ha fatto i concorsi qualche anno fa ma ora è in pensione sì dove ha insegnato le medie e le superiore? le superiore ah i 17 i 17 l'incubo dei 18 anni grazie adesso la vedranno con la fine di me eh sì arrivederci l'interesse legittimo può definirsi un interesse a tutelato solo amministrativamente b indifferenziato e generico c differenziato e qualificato d immediatamente tutelato terzo è differenziato e qualificato cosa vuol dire differenziato e qualificato? come mai quello? tutelato solo amministrativamente perché hai detto questo? perché io penso studiato però poco che ho letto il soggettivo la differenza tra il diritto soggettivo interesse legittimo che il diritto soggettivo è un altro generico interesse legittimo tutelato amministrativamente solo amministrativamente quindi il solo che è cosa vorrà dire solo? se c'è il solo vuol dire che non è tutelato dove? amministrativamente cosa vuol dire? dal giudice amministrativo in realtà no ti dice tu puoi fare il ricorso solo in opposizione gerarchico ma solo all'autorità amministrativa non puoi andare da un giudice invece la costituzione mi dice che l'interesse legittimo è tutelato anche dal giudice quindi là che era la tipica domanda tra bocchetto mentre differenziato e qualificato cosa vuol dire? differenziato perché deve essere differenziato? è relativo ad una situazione determinata cioè non è un interesse è confidenziale a una persona a un interesse e anche presumibilmente a un progetto esempio esempio di un interesse che non può essere tutelato perché non è differenziato quindi non ho un interesse legittimo l'amministrazione fa un provvedimento con cui vieta di venire con le biciclette sul molo questo è a fronte di questo provvedimento è un interesse non differenziato perché io non posso venire l'altro non può venire chiunque non può venire io vengo con la bicicletta e mi fanno un verbale che interesse ho? differenziato a me che è stata applicata la sanzione ho ammesso che sia un interesse legittimo oppure tutti quelli che abitano in via Roma non possono venire sul molo in bicicletta allora quello è un interesse differenziato per cui il mio è diverso dall'altro qualificato significa che l'ordinamento gli riconosce una particolare tutela che è quella amministrativa e giurisdizionale qui è difficile perché si usano paroloni concettuali allora intanto cercate voi qualche domanda io vado a cercare il demanio che è un'altra delle materie odiate da tutti volevo chiedere una cosa ho fatto un'accusa di manifestazione di interesse per successivo invito a fare una rufferta con cui poi farò io un filamento in inglese ok solitamente se avessi dovuto fare una procedura ne ruffiata avrei applicato il principio dell'offerta ai con la ruffiamento sul mato giurisdizionale il consigliere dell'offerta di una procedura in questo caso io richiedo solamente i preventivi a queste due cooperative che hanno partecipato hanno mandato una manifestazione di un'idea io non sono costretta a nominare una commissione no anzi ripeto il caso io sto facendo un affidamento diretto perché sono sotto i 140.000 se sono servizi e fornitore o i 150.000 se sono lavori per cui sto facendo un avviso nel quale dico chiunque è interessato a fare questa attività nel settore socio, educativo culturale quello che deve essere mi mandi la sua manifestazione di interesse ricevo la comunicazione che sono interessato non mi viene fatta nessuna offerta sono interessato io mando una lettera di invito con il quale dico ok ora che siete interessati senza far conoscere l'esistenza dell'uno rispetto all'altro perché comunque la segretezza va mantenuta anche in caso di affidamento diretto perché il principio di concorrenza è il principio in base al quale non si devono mettere d'accordo perché se sanno dell'esistenza l'uno dell'altro cosa succede ok guarda questa vinci la te e io farò un'offerta molto più alta la prossima me la fai vincere quindi attenzione a questi principi che non si ricavano così direttamente dal codice ma sono fondamentali la giurisprudenza è costante su questo quindi senza far sapere all'uno dell'esistenza dell'altro gli dico ok fammi un'offerta primo scrivere chiaramente che siamo nell'ambito di un affidamento diretto perché la giurisprudenza dice che se tu fai una procedura strutturata con un avviso con una successiva lettera di invito magari nomini una commissione possono avere un legittimo affidamento che sia una procedura negoziata allora si applicano tutte le norme sulla negoziata anche se tu pensavi di fare l'affidamento diretto quindi gli devi dire guardate è un preventivo non sono obbligato a assegnartelo potrei non avere i soldi in bilancio perché nell'indagine di mercato per l'affidamento diretto non devo fare la determina a contrarre nella negoziata devo fare la determina a contrarre quindi io non ho fatto il determina a contrarre e non si applicano i criteri di aggiudicazione quindi non è né un prezzo più basso né un'offerta economicamente più vantaggiosa sono io che in base a criteri che posso predefinire ma posso anche non predefinire dirò che in base a ciò che mi dite io decido l'affidamento l'importante è la motivazione come mai l'hai data a quella che ti fa pagare di più mi fa pagare di più ma mi dà dei servizi accessori migliori mi fa pagare di più ma inizia il primo di settembre e quell'altro inizia il primo d'ottobre e siccome i bambini devo mettere in aula il primo di settembre la do allora l'importante è lì è la motivazione è un affidamento diretto allora non la devo chiamare commissione giudicatrice posso farmi assistere come RUP da esperti che non ho bisogno di convocare contestualmente io mando i progetti a tre esperti due esperti gli dico oh che ne pensate e loro mi dicono è una sciocchezza questa attenzione quindi non la chiamerei commissione e non le farei riunire contestualmente gli chiederei un parere sulla giudicazione altre? vai materie intanto vi faccio una domanda così buttata là non rientra nel demanio accidentale a il demanio stradale b il demanio storico archeologico aeronautico c il demanio ferroviario d il demanio idrico forza stradale storico archeologico ferroviario idrico non rientra fra il demanio accidentale quindi cos'è qual è l'alternativa al demanio accidentale? il demanio è di due i beni del patrimonio sono demaniali e del patrimonio indisponibile del patrimonio disponibile tripartizione demanio patrimonio indisponibile patrimonio disponibile il demanio sono quelle cose che non possono essere distratte per natura dalla loro funzione pubblica il monon ok? questo ha una funzione pubblica che non consente di poterla distrarre i beni del patrimonio indisponibile invece sono beni che finché sono destinate a quella funzione hanno una funzione pubblica il palazzo comunale finché è sede del comune ha quella funzione quando il comune se ne va via io lo vendo, lo affitto faccio quello che voglio i beni del patrimonio disponibile sono appunto quelli di cui posso disponere tranquillamente all'interno del demanio si distingue il demanio necessario che per natura è demaniale quindi quel bene è sempre demaniale e quello accidentale cioè è demaniale se ricorrono certe condizioni cioè in particolare se la proprietà è di un ente pubblico quindi fra queste cose ci potrebbero essere delle cose che non necessariamente sono di un ente pubblico ecco l'importanza di domandarsi sempre la domanda stradale le strade sono sempre di un ente pubblico io conosco le autostrade conosco le statali conosco le regionali conosco le strade comunali conosco le vicinali ci sono strade private? in casa vostra avete un vialetto avete la strada che va al garage quella è privata quindi non è demanio è demanio non accidentale è demanio necessario eventuale storico archeologico sono tutti beni che fanno parte di proprietà pubblica tutte le opere pubbliche tutte le opere archeologiche tutte le opere storiche sono sempre di un ente pubblico no posso avere un quadro tranquilla una pinacoteca privata non fa parte del demanio demanio ferroviario le ferrovie sono solo pubblico o ci sono anche ferrovie private? ci sono anche ferrovie private e quindi rimane il demanio idrico le acque sono pubbliche e quindi tutte le acque fanno parte del demanio necessario e quindi necessariamente qualunque bacino d'acqua dal mare ai fiumi ai pozzi all'acqua sotterranee alle piogge sono tutte opere o comunque beni del demanio necessario allora altra domanda vai e nel frattempo voi pensate a una materia che vi viene in mente alcuni suggerimenti mentre voi ci pensate allora si diceva quando si risponde ad una domanda che sia un orale o che sia uno scritto struttura della logica premessa mai dimenticare la premessa quando si va direttamente alla risposta spesso si dura poco spesso non si dà la possibilità